Hi, minasan, konnichiwa. Salve gente, bentornati su Azur-san. Nel video di oggi parliamo un poco di architettura. Già sul canale non faccio mancare proprio niente. E come introduco l'argomento? Beh, raccontandovi della Nakagin Capsule Tower, una struttura che forse risulterà familiare all'oricchio oppure alla vista a qualcuno di voi vedendo le foto. Di recente è comparsa una notizia che questo Nakagin Capsule Tower, un edificio eletto una cinquantina di anni fa a Tokyo nella zona di Ginza, sta per essere demolito. Per chi non lo conoscesse di preciso sto parlando di questo edificio qua. Ecco. Beh, come mai? Che ha tanto di particolare questa struttura, oltre ad essere molto strana, bizzarra, tanto da sembrare un insieme di lavatrici messe stoste una sopra l'altra? Sì, dal vivo fa questa impressione, ma penso anche vedendo la foto non sia tanto diverso come discorso. Beh, dicevo, come mai? Che ha di particolare? Di interessante che si tratta del primo edificio al mondo strutturato a capsule. Come ben vedete, quelle lavatrici sono delle capsule e adesso ve ne parlo meglio. Ah, quasi dimenticavo. Prima di partire con il discorso, sguardo alla classica vignetta per ricordarvi di supportare il canale, supportare la crescita del canale. Eccola qua. Date pure uno sguardo. Ok, parliamo pure di questa Nakagin Capsule Tower. Allora, la Nakagin Capsule Tower si tratta di un progetto realizzato dall'architetto giapponese Kurokawa Kisho, una struttura realizzata tra la zona di Shinbashi e Ginza, che si trovano nella capitale Tokyo. La struttura si tratta di uno dei pochissimi esemplari di edifici, forse quello più iconico, ad entrare nel movimento l'avanguardia giapponese architettonico e urbanistico detto Shin Shin Taisha, cioè movimento del metabolismo, chiamato anche semplicemente metabolismo. Un movimento nato più o meno nel dopoguerra, diciamo gli anni Sessanta. L'apice del movimento sarà l'Expo di Osaka del 1970. Comunque, per farlo a breve, si tratta di un movimento proiettato molto verso il futuro, proponendo strutture funzionali e mutevoli nel tempo, quasi da sembrare delle apparecchiature. E in parte servivano a mostrare la ripresa del Giappone nel dopoguerra. Ed è così che ne parla l'architetto citato poco fa. I lavori per la Nakagin Kapsetawa partano nel 1970 e si concludono in poco più di due anni, nel 1972. La struttura è formata al centro da due torri principali, di diversa grandezza, dove sono state poste con quattro bulloni in un alveare abbastanza caotico, per niente simmetrico, 140 se non sbaglio, 144 capsule prefabbricate. E alla base invece troviamo un enorme hole. La struttura è stata realizzata per includere alcune attività commerciali alla base, ma principalmente utilizzata come condominio. Un luogo da vivere per l'uomo pendolare, per chi è in cerca di abitazioni momentanee, chi è in viaggio, una sorta di uomo nomade, quindi un qualcosa di transitorio, niente di veramente permanente. Qualcuno ci vive anche 10-20 anni, ma non oltre. Infatti queste capsule di appena 10 metri quadri, sì 10 metri quadri circa, hanno il minimo indispensabile, sono minimaliste anche nel loro design, essendo delle scatole d'acciaio con caratteristica finestra d'oblò, infatti lavatrice. Le reti interni sono a comparsa, ribaltabili, un letto vicino alla finestra, un televisore, un mini frigo, lampade, poche prese elettriche e niente cucina. Inoltre è presente un bagno simile a quello che si trova nei mezzi di trasporto con i sanitari e una minuscola vasca. Fa strano questa cosa, una vasca invece di una doccia, insolita pensando all'economia di spazio necessario, quindi come dicevo una scelta insolita. E questo è tutto, magari col tempo qualcuno, qualche inquilino ha poi deciso di fare le proprie personalizzazioni, tipo mettere fornelli, lavatrici o altro, ma di base non ci sono. Le capsule, rispecchiando un po' la transitorietà degli inquilini, erano state progettate per essere provvisorie, staccabili e cambiate, modificate in un ciclo di 20-25 anni, quindi ogni 25 anni bisognava sostituire queste capsule, ma contrariamente a quanto previsto, per risorse e dispendio di energie, i dovuti cambi non sono stati mai veramente effettuati, portando le capsule a crollare nel degrado più totale, lasciate lì nel dimenticatoio a deteriorarsi, soprattutto con le giornate piovose che hanno lasciato segni di conduzione. Inoltre c'è difficoltà nell'avere acqua calda dopo un problema con le tubature, il servizio di ventilazione non c'è, è impossibile da effettuare. Questo perché? Perché all'interno della struttura c'è una buona presenza di amianto, esatto, nella struttura c'è amianto, che finendo nel condotto di ventilazione potrebbe creare gravi danni, per questo niente ventilazione. Quindi in estate, altro che lavatrici, diventano dei full nivelli propri. Poi umidità, muffe, spore e tanto altro non aiutano. E si teme anche la sua stabilità in caso di sismo, come ben sappiamo i terremoti in Giappone sono abbastanza frequenti. Che dire, è un progetto per quanto bizzarro che ha un suo perché, una sua anima, uno dei tanti simboli che caratterizzano la capitale, spicca al punto giusto da volerlo preservare al punto iconico. Ma senza le dovute risorse, la giusta manutenzione e ingiustamente c'è ben poco da fare. Per questo a partire dai primi anni del 2000, pian piano, pian piano, sono scompassi gli inquilini trasformandosi in un palazzo mezzo fantasma. Nonostante nel 2006 la struttura è stata selezionata da Dokomomo Japan come architettura del movimento moderno in Giappone. Di queste capsule giusto una trentina erano ancora occupate, ma per essere delle abitazioni secondarie, di passaggio, studi o dei depositi. Si sperava in una ripresa magari affittando i turisti, ma con la pandemia è morta anche questa possibilità. E allora sono giunte le proposte di demolizione. C'è chi si è opposto, come l'architetto stesso, ma nel 2007 è morto, poi alcuni critici e anche un ex inquilino di nome Abe Masato. Nel 2014 egli ha cercato di fare una raccolta a fondi per salvare la struttura in qualche modo, ma senza grandi risultati. Quindi ciò non toglie che dopo 50 anni e tanti dibattiti e incestezze è arrivata la sentenza di morte. La struttura verrà demolita ugualmente. Di rivelgio si pensava a questa soluzione nel 2007. Venderlo a qualcuno interessato a smantellare per metterci altro, ma con la recessione nel 2008 non si è fatto più niente. E si era stimato anche ripristinare queste capsule, ma calcolando 6 milioni di yen, 6 milioni di yen, cioè 40 mila euro per capsule, ogni singola capsula, troppo caro, indovinate, stop. Niente da fare. Poi ci sono stati questi tentativi di salvarlo, letti poco prima, magari acquistando le capsule scollegate, ma anche qui no. E quindi poche settimane fa è arrivata la comunicazione che la struttura verrà smantellata, demolita del tutto, pensando a una riqualifica della zona. Mentre delle capsule alcuni possono essere conservate e riciclate, e finiranno in mano a qualche museo o collezionista, facendo rivivere in qualche modo la struttura, lasciandomi in una sua eredità. Eredità visibile che rivive anche tramite alcune pellicole, ad esempio c'è il film del 2013 su Wolverine, o il film su Godzilla, o la serie Heroes Reborn, quindi c'è del materiale. E ora dal 12 aprile sono partiti con le imparcature per smantellare il tutto. Chissà quanto tempo ci metteranno per ultimare la cosa. Inoltre sono anche curioso di sapere cosa nascerà in quel luogo, e soprattutto se resterà qualcosa di commemorativo della vecchia Nakagin Capsule Tawa. Sì, sono veramente curioso al riguardo. Io quando sono stato in Giappone ci sono anche passato più di una volta di rivero. E a vederlo non era chissà in che è stato in che splendore. Mi spiace solo non aver fatto foto all'epoca. Dannazione, perché non l'ho fatta? Beh, un po' me ne pento, ma ormai è fatta. Vabbè gente, il video si conclude qui. Se sbucheranno ulteriori dettagli fuori, cercherò di tenervi aggiornati. Se dirilevo farò un video a parte. Invece per piccole cose vi farò sapere con un post qui sul canale oppure sui social network. Sì, perché Arosan non è presente solo qui su YouTube, ma anche su Instagram e Facebook. TikTok ancora niente, ma mai dire mai. Bene, detto ciò io vi saluto, ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale, mi raccomando non mancate. Alla prossima, matanè!